Tutti morti. Oddio, diventa bianco! Esce l'uccello di fuego! Uuuuh! Oh! Oh! Che cazzo succede? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio, ma è pazzesco! È pazzesco! È pazzesco! Oh mio Dio! Ma che cazzo stiamo parlando? Mamma mia, se ti perdevi sto coso qua! Oddio! Un applauso! Oh mio Dio! Madonna! Cosa? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Vai, vai! Vai col signore! Vai, seguila! Che succede? Il nulla, raga! Sopra, sopra, sopra! Si sta formando una parete! La frattura! È un frattura di frattura! Una frattura sarà la frattura, raga! Mi sta disucchiando! È l'uccello di fuego! Ello non ci crede! È l'uccello di fuego! Lo sapevo! Sono un illuminato! È l'uccello di fuego! È l'uccello di fuego! C'è l'uccellino! È l'uccellino di fuego! È chiaramente un uccello di fuego! Oh my God! Oh my God! No, evitiamo! Perché vorrei metterlo sul canale! Raga, ma che cavolo è fucking successo! Ragazzi, io sono qua! C'è un casino di gente! Ah, io devo capire... Devo capire se la gente spara! Ragazzi, c'è un casino di gente! No, sono morto! Oh my God! Oh my God! Oh my God!